Una grande soddisfazione, un grande orgoglio salutare la nostra delegazione che parte per Parigi dopo tanto impegno e devo dire che c'è anche una certa emozione perché vedere qui tanti campioni affermatissimi e tanti altri giovani ci dà molta soddisfazione, orgoglio e entusiasmo ma anche consapevolezza che la nostra è una regione che sta crescendo tantissimo nello sport anche grazie agli sforzi fatti dalle società sportive e dalle amministrazioni locali che hanno investito sulle infrastrutture e questo credo che sia il risultato che più ci mette anche davanti a quello che è il ruolo della pubblica amministrazione che quando è preparata e efficace produce ottimi riscontri. Qui c'è da cogliere anche per tanti testimonia perché ognuno di loro può raccontare la nostra regione e fa piacere che comunque ognuno di loro resta aggrappato al nostro territorio questa è una grande soddisfazione, il fatto che loro si sentano marchigiani credo che sia una prova di quanto questa terra è comunque una terra che dà emozioni e che ci rende tutti orgogliosi.